oggi come oggi io vedo io sono per sono per ciò che sta facendo renzi tanto perché forse non ci riuscirà ma c'è bisogno di scartabellare le cose e quindi oggi come oggi allora era una pigrizia oggi c'è pigrizia c'è una una pigrizia proprio umana secondo me nella politica è tutto un gioco è tutto un non si parla mai di cose buono è buono si parla sempre dicendo il mio avversario ha fatto una cosa brutta e non si costruisce mai quello che io sento allora c'era per carità ideologie sono pericolose io ho fatto il rinoceronte di unesco che parlava contro le giudizioni però si credeva di più alla gente si credeva di più che quello che stava lì a parlare mi rappresentarsi i miei sentimenti c'era più convinzione nell'uomo oggi nell'uomo che fa politica i politici sono persone meravigliose ma insomma assistiamo continuamente a tali a tali disordini chiamiamoli così che un eufemismo che capisco il bisogno di volta al pagina sì sì assolutamente sì io sono vecchio ma dico lo dico da vecchio viva non vive i giovani viva si può essere giovane anche la mia età magari però viva coloro che cercano di 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 modificare sbaglia chi fa chi non fa non sbaglia mai e allora basta fare qualcosa che anche se si sbaglia si fu un rimedio poi ma fare grazie a tutti grazie a tutti